Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. Apriamo quest'edizione con la cronaca e con l'omicidio di Maurizio Cerrato, che lunedì sera ha colpito la città di Torre Annunziata. Indagini ancora in corso, intanto il sindaco Ascione ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Passiamo alla situazione Covid-19, in arrivo il nuovo decreto del governo che entrerà in vigore la prossima settimana. Al centro del dibattito ci saranno le aperture delle attività economiche, ma non sarà un vero e proprio liberi tutti. Torniamo alla cronaca maxi-operazione della Guardia di Finanza, che ha scoperto nel napoletano una vera e propria filiera del falso, sequestrando oltre mezzo milione tra capi di abbigliamento, accessori ed etichette contraffatti. Parrucchieri, barbieri e centri estetici da lunedì hanno riaperto le loro attività e si dichiarano fiduciosi per il futuro. Ai microfoni di TV City abbiamo ascoltato alcuni rappresentanti della categoria a Torre del Greco. Nuo appuntamento con Ospedale Solidale Villa Betania, progetto che promuove la prevenzione sulla salute delle donne. Questa mattina le nostre telecamere hanno raggiunto i locali della parrocchia di Santa Maria del Principio, che hanno ospitato l'iniziativa. Continua la battaglia del sindacato Ursa riguardo la vaccinazione ai lavoratori del settore dei trasporti. A parlarne è il segretario nazionale Angelo Ciccone, che annuncia nuovi progetti per il futuro. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Un'iniziativa per ricordare Luigi Caffiero, giovane di Torre Annunziata, ucciso per sbaglio dalla Camorra nel 1982. Il ricordo di Luigi, questa sera, si unirà al dolore per il brutale omicidio di Maurizio Cerrato, l'uomo di 61 anni che lunedì sera è stato colpito alla testa con un compressore portatile e poi ucciso con una coltellata al petto in via 4 novembre. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, gli ordini del Maggiore Simone Rinaldi, che mantengono il più stretto riservo sulle indagini. Questa sera alle 19.30, sulla pagina Facebook del Presidio Libera Torre Annunziata, sarà trasmessa la diretta dei giovani. Intanto dalla sua bacheca, Don Ciro Cozzolino, parroco della Chiesa della Santissima Trinità, stigmatizza l'accaduto. Sono criminali, assassini senza scrupoli, che hanno agito con arroganza e freddezza. Di fronte alla morte di un padre di famiglia, la storia ci insegna che non basta indignarsi, ma la società civile e le istituzioni devono sostenere e accompagnare questa famiglia. La generosità nei commenti di solidarietà e di indignazione di oggi, mi auguro diventi impegno per la giustizia. Chi ha visto parli. Il senatore Sandro Ruotolo interviene sulla vicenda, con una lettera indirizzata alla figlia della vittima. Cara Maria Adriana, ti dobbiamo chiedere scusa. Siamo tutti colpevoli con la nostra indifferenza e con i nostri silenzi. Nessuno ti potrà restituire tuo padre, ucciso per difendere te, la sua figlia amata. Figlia che è al momento l'unica testimone certa dell'accaduto, già ascoltata due volte dagli inquirenti. Le indagini proseguono senza sosta per assicurare alla giustizia gli autori della brutale aggressione. Duro anche il commento di Giuseppe Manto della Confcommercio. Mi sarei aspettato di svegliarmi questa mattina in un paese blindato. Mi sarei aspettato una risposta forte, soprattutto di presenza, da parte dello Stato. Torre Annunziata ha perso ancora. Si vive nell'illegalità diffusa. Non servono manifestazioni di facciata, servono fatti. Le commemorazioni le lasciamo agli altri. Quelle non ci interessano, soprattutto se poi non cambia nulla. Sono certo che le forze dell'ordine sapranno assicurare alla giustizia nel più breve tempo possibile i responsabili di questo assurdo ed efferato delitto. Nel giorno dei funerali, ha fatto sapere ieri il sindaco Vincenzo Ascione, verrà proclamato il lutto cittadino. In arrivo il nuovo decreto Covid. Il Governo, nelle prossime ore, studierà il provvedimento che sarà valido la 26 aprile al 31 luglio. Al centro del dibattito ci saranno le riaperture delle attività economiche, ma non sarà un vero e proprio liberi tutti. Alcune delle regioni spingono per spostare il colpo di fuoco alle 23, mentre l'esecutivo tende a confermare l'attuale orario fissato alle 22. A confermare la linea della prudenza da parte del Governo è il Ministro Patuanelli, ribadendo alla scelta presa nel corso della cabina di regia di venerdì scorso. Si va anche verso una riapertura totale delle scuole. L'obiettivo del Governo è quello di garantire la didattica in presenza al 100% per ogni ordine e grado. Nessuna marcia indietro, il Governo vuole riaprire le scuole, la conferma del Ministro Maria Stella Gelmini, che pone l'accento sulla questione dei trasporti. Intanto, in queste ore anche in Campania si sta accelerando il ritorno nelle scuole, dove non mancano le difficoltà denunciate dagli studenti degli istituti locali superiori. Tra problemi di connessione è mancato rispetto del distanziamento sociale. Altro aspetto al centro del dibattito tra Stato e Regioni è l'introduzione di un pass immunitario. Si valuta la partenza di un progetto pilota nella provincia autonoma di Bolzano, per verificare l'efficacia di un provvedimento che potrebbe sbloccare la situazione relativa alle attività economiche. La strada del Governo, in ogni caso, è quella di agire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, evitando iniziative autonome da parte delle Regioni. Restano confermati al momento i tre criteri per ottenere il pass, tampone negativo, guarigione o vaccinazione effettuata. Non possiamo tollerare ulteriori chiusure. La nostra categoria è stata già fortemente penalizzata. Parrucchieri, barbieri e centri estetici da lunedì hanno riaperto le loro attività e si dichiarano fiduciosi per il futuro. Ai microfoni di TV City abbiamo ascoltato alcuni rappresentanti della categoria a Torre del Greco. Finalmente siamo di nuovo a disposizione della clientela, sperando che questa volta sia definitiva, considerando che stiamo andando avanti con i vaccini e quindi sperando nella medicina che sia opportuna in questo momento così difficile e drammatico, non solo per l'economia ma per tutte le vittime. Qua farei un pensiero particolare alle vittime, perché alle volte ci dimentichiamo di certe cose che poi alla fine sono quelle più importanti, la vita delle persone. Una zona rossa che è stata difficile, quali sono stati gli aiuti dalle istituzioni? Se diamo un velo pietoso, anche se comunque qualche parola la devo dire, purtroppo hanno creato un sistema di ridistribuzione di fondi un pochettino a doppio taglio. Le spiego insomma, noi abbiamo avuto perdite che si aggirano intorno al 27-28%, avendo questo tipo di perdite, considerando che i ristori sono stati calcolati su una perdita del fatturato del 30%, a noi non tocca nulla, considerando che l'anno passato siamo stati chiusi due mesi e dieci giorni. Noi ovviamente, non solo noi come categorie ma anche altri tipi di categorie, quest'anno addirittura, cioè da poco siamo rientrati, dal 19 siamo aperti che siamo in zona arancio, ci hanno chiusi altri 40 giorni. Quindi, lavorando 40 giorni, cioè non lavorando 40 giorni, quindi fatturato zero e non avendo avuto nulla, tanto meno, insomma aveva dovuto pagare anche le spese, quindi tutto è andato normalmente per quanto riguarda le spese, ma per quanto riguarda ristori assolutamente zero. Parrucchieri, barbieri e centrestetici che già al ritorno dal primo lockdown del maggio 2020 erano stati riaperti con normative anticontagio ferre che ancora oggi vengono utilizzate. Sì, sì, io mi permetto di dire che parlo a nome di tutta la categoria, perché poi l'eccezione non fa la regola ma la conferma, mi permetto di dire che noi siamo stati le prime ad avere un protocollo. Mi permetto di dire che lavorando in questo modo è impossibile, fatto ovviamente l'eccezione, come dicevamo prima, conferma la regola, è impossibile avere opportunità di contagio, è impossibile. Se vogliamo essere corretti, almeno noi, e dobbiamo essere, bisogna sanificare in continuo, qualsiasi tipo di attività si faccia, di continuo, senza stancarsi. In vista del futuro, lei è fiducioso o teme una nuova chiusura? Io voglio essere fiducioso. Abbiamo visto un governo che non è all'altezza di poter chiudere le attività, perché attività come la nostra, che è storica, abbiamo le spalle, mi permetto di dire, un pochettino più larghe, possiamo sopportare determinate cose. Però chi effettivamente lavora alla giornata, vive alla giornata, non può assolutamente permettersi di chiudere. Non si possono assolutamente più permettere, perché sarebbe un stilicidio. Abbiamo un'attività con molte spese, io sono pure parrucchiere maschile e centro estetico consularium. Potete immaginare con due attività, un mese e mezzo chiuso, il danno che mi ha provocato. Qual è il riscontro che lei ha potuto constatare nei confronti delle istituzioni? Ci sono stati dei supporti? L'anno scorso abbiamo avuto un piccolo contributo a quello che abbiamo perso, si può chiamare piccolo, quest'anno no, con il cambio governo non abbiamo avuto sostegno di niente. Lei è fiducioso in vista del futuro o si aspetta una nuova chiusura? Io spero che la finiamo così che non chiudano più. Poi quello che non capisco è che non c'è molto controllo per strada, attrattività senza fare nome. Sperando che se hanno un controllo normale anche per strada, penso che il problema di chiudere un'altra volta non ci dovrebbe stare. Ma non lo voglio nemmeno immaginare per tutti noi, perché poi andiamo allo sfascio. Un augurio che si sente di fare non solo ai suoi colleghi, ma anche a coloro che fanno parte delle categorie interessate alla legge usurda. Noi dobbiamo lavorare tutti quanti. Senza lavoro penso che il futuro non ce n'è, ma pure per i giovani. Speriamo che sarà un futuro roseo. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica Partenopea ha denunciato 22 soggetti facenti parte di una strutturata organizzazione dedita alla contraffazione Marchi. In particolare i baschi verdi del gruppo Pronto Impiego hanno disarticolato una filiera del falso sequestrando tra i quartieri napoletani di Secondigliano, Pendino, Vasto, Pianura e di comuni di Giuliano in Campagna e Casanovo di Napoli oltre mezzo milione tra capi di abbigliamento, accessori ed etichette contraffatti, 17 tra opifici e depositi clandestini e 873 macchinari. L'indagine è partita dall'individuazione di laboratori irregolari di produzione, assemblaggio e confezionamento dei capi di abbigliamento falsi e dalla successiva scoperta di siti di approvvigionamento dei capi neutri privi di marchio sui quali venivano apposti i loghi ed etichette contraffatte di noti brand tra cui Louis Vuitton, Chanel, Lacoste, Fendi, Gucci, Armani, Adidas, Colmar anche questi ultimi realizzati in stamperie clandestine. Gli opifici erano organizzati con macchinari, plotter tipografici, termopresse a caldo e macchine da cucite professionali e persone in grado di seguire tutti gli step economici dalla produzione alla commercializzazione della merce falsa, quest'ultima destinata sia alla vendita diretta dagli acquirenti sia sulle bancarelle all'interno del mercato della Maddalena situato nel cuore di Napoli. Durante gli accertamenti inoltre è stato riscontrato che due laboratori clandestini si approvvigionavano di energia elettrica attraverso allacci abusivi alla rete pubblica realizzati con il sistema del bypass che permetteva di utilizzare l'elettricità senza far rilevare il consumo dei contatori. L'operazione si inquadra nell'ambito del dispositivo di contrasto all'abusivismo commerciale e alla contraffazione orientato prevalentemente a disarticolare la filiera del falso e a rimuovere i canali di approvvigionamento. Il valore della merce sequestrata nella soddetta operazione ammonta a circa 6 milioni di euro. Continua la battaglia del sindacato Ursa riguardo alla vaccinazione dei lavoratori del settore dei trasporti. A parlarne è il segretario nazionale Angelo Ciccone che annuncia nuove iniziative. Oggi ancora una volta mi trovo a denunciare da qui fino al giorno 23 alla quale l'organizzazione Ursa Trasporti ha inteso proclamare la seconda azione di sciopero perché nonostante la prima azione che ha dichiarato uno sciopero per quanto riguarda l'esclusione della vaccinazione per il personale del comparto trasporti abbiamo dovuto mettere in campo una seconda iniziativa di sciopero che si terrà il giorno 23 di questo mese con inizio alle ore 9 del mattino fino alle 17 di sera. Con l'apertura delle scuole sapete bene che in orari ben definiti c'è un'affluenza maggiore iniziando dai servizi metropolitani che proprio lì intravediamo in certi orari proprio un modo di viaggiare che è indecente veramente è indecente cioè proprio si viaggia come sardine mi dovete spiegare come si possa evitare il contagio questo sciopero come seconda azione non riguarda solamente alla tutela dei lavoratori del mondo dei trasporti ma soprattutto per la tutela dei cittadini perché non è possibile oggi ignorare una categoria del genere e con essa i cittadini che si viaggia in un determinato modo con particolare riferimento al trasporto pubblico locale ci auguriamo che in questa seconda azione di sciopero possiamo avere una grande partecipazione anche di lavoratori che non facciano parte della nostra sigla sindacale perché è una battaglia di civiltà è una battaglia di dignità perché non ci sentiamo lavoratori di serie B quindi chi è preposto per fare in modo che naturalmente i lavoratori nell'ambito del comparto trasporti abbiano la giusta considerazione in equal misura come tanti altri lavoratori noi non intendiamo essere né primi né secondi meritiamo e vogliamo il giusto trattamento come lo hanno avuto tutti gli altri lavoratori nuovo appuntamento con l'ospedale solitale Villa Betania progetto che promuove la prevenzione sulla salute delle donne in sinergia con il comune di Tore del Greco questa mattina le telecamere di TV City hanno raggiunto i locali della parrocchia di Santa Maria del Principio che hanno ospitato quest'oggi l'iniziativa dopo il successo delle scorse settimane il nostro ospedale Betania oggi ha messo a disposizione i nostri mezzi i nostri colleghi per completare l'opera che è stata iniziata a marzo per la prevenzione della donna e oggi abbiamo eseguito PAP test visita ginecologica per l'iniziativa del nostro ospedale solidale iniziata appunto a marzo che si completerà a maggio con il controllo ecografico in modo da assicurare alla donna uno screening completo e siamo lieti di questo ricordiamo anche le modalità di accesso a questa iniziativa a chiunque fosse interessato sì, sono completamente gratuite basta semplicemente contattare i responsabili della nostra associazione ed è tutto assolutamente gratuito sia la visita, sia il PAP test, sia l'ecografia Qual è stata la risposta delle donne? Assolutamente positiva sia per quanto riguarda la risposta sul territorio con questi ambulatori esterni in cui noi siamo venuti e siamo stati accolti in diversi spazi anche con il rapporto con diverse associazioni sul territorio in questo caso di Torre del Greco per essere un supporto importante e soprattutto per informare che il nostro ospedale ha già da diversi anni attivo una serie di ambulatori solidali che sono di supporto alla donna e non solo perché cerchiamo che l'ospedale intero sia comunque solidale è aperto in tutte le sue sfumature la parte più fragile della società Dopo giusto un mese riprendiamo questa bella iniziativa della prevenzione dove anche oggi c'è stata una bella risposta e questo ci fa capire che la prevenzione è importante e che dobbiamo sempre aprire le porte sia del cuore anche le porte delle strutture affinché tutti possano aderire a questa bella iniziativa Un appello che vogliamo lanciare alle donne di Torre del Greco e dei comuni limitrofi a partecipare a queste iniziative A prendere visione delle date di queste iniziative per partecipare e per essere sempre pronte a vivere questa prevenzione Grazie per la cortese attenzione per info e segnalazioni contattateci alla mail redazione chiocciola tvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484 Grazie e alla prossima edizione con informazioni di TV City Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti